Il disservizio dell'ufficio Sisma è da debitare le lungaggini burocratiche per il rinnovo del contratto alla cooperativa incaricata. Così il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, risponde al consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Gennaro. Problema risolto nel giro di una settimana, chiarisce il sindaco, specificando che l'esternalizzazione dei servizi è sicuramente uno dei problemi più gravi ereditati dalle passate amministrazioni e dovrà essere risolto una volta per tutte. Mi auguro che d'ora in poi il giovane consigliere De Gennaro non si limiti a segnalare il disservizio, ma che anche lui fornisca suggerimenti per la soluzione dei problemi. Quello di segnalare a cose fatte è un metodo vecchio, continua la Casini, un atteggiamento che non porta nulla di concreto ai cittadini. Da un giovane come lui mi sarei aspettata soluzioni e suggerimenti, così non è stato. Il problema è stato risolto dall'amministrazione, mentre le parole del consigliere non hanno portato a nulla di buono, chiose il sindaco.